Denunciati i due ragazzi protagonisti della rissa avvenuta venerdì sera in stazione a Lecco è diventata virale grazie alle immagini diffuse dai social. I due giovani, presto identificati dopo l'accaduto dalla polizia ferroviaria, hanno deciso di non sporgere denuncia, ma sono state le istituzioni a chiamarli in causa per la gravità dell'accaduto. Un episodio increscioso, commenta il prefetto Castrese De Rosa, ma a Lecco non c'è un problema sicurezza. Io dico sempre che non bisogna minimizzare, non bisogna mai abbassare la guardia. Si è trattato di un episodio isolato, ovviamente sono stati i protagonisti denunciati, noi siamo sempre in allerto su tutti i fronti e quindi ho chiesto alle forze dell'ordine di vigilare sempre con attenzione perché questi episodi non debbano accadere, ma non darei ulteriore risalto a questo episodio che è molto limitato e circoscritto.